ciao arrivo Cecilia adesso vediamo di capire come fare ciao ciao come va? qui tutto bene sei ancora quarantenata? no, da oggi fuori da oggi fuori bellissima una sensazione una bella sensazione guarda, non hai idea bellissima davvero bella tutto bene? sì, tutto a posto bene, bene, bene allora navighiamo stasera? navighiamo mettiamo i telefoni e non perdiamo tempo così scriviamo subito sì, qui ci sono dei gatti un po' curiosi adesso io ne ho uno che sta dormendo ne ho uno che sta dormendo qua di fianco a me finché dorme teniamolo sì perché tu hai messo le cuffiette invece io scena non le ho messe adesso vediamo ok aspetta che mi collego anche di là perché io non vedo una città con che penna scrivi stasera? allora stasera scrivo con dei penarellini con dei penarelli ma lo sai che io ciao Irene ciao Cristina ciao ciao a tutti io stavo facendo un po' l'inventario delle mie penne gel insomma per vedere e niente ho scoperto che non ne ho in casa in realtà ho un set di slitchi però sono quelle 03 quindi scrivo proprio un minuscolino dovrò rifornirmi sono piena di penne stilografica ma non di penarelli visto che l'altra volta parlavamo di penarelli poi Elena ciao Elena io invece ho comprato giusto perché ne avevo bisogno ah infatti dei penarellini perché settimana scorsa tu mi hai messo questa pulce nell'orecchio dei penarellini quelli i paper mate sì e cercandoli mi è mi è stato come un suggerimento dell'acquisto è uscito un articolo che non è paper mate ma è un'imitazione diciamo un'imitazione credo e li ho voluti provare e i miei sono arrivati li vogliamo vedere subito allora quindi che punta hanno guarda ti le faccio vedere un colore a caso hanno questo appunto qua ah feltro duro ok ho capito curiosa curiosa sì di vedere come scrivono e sono veramente poi hanno sono 24 hanno una serie di colori pazzeschi ecco sentilo sì è proprio qua di fianco a me questa è una chiacchierona ciao Emanuela vuole partecipare sì però adesso la fiondiamo ciao Manu un'altra quarantenata uh Samantha ciao ci sono le mie studentesse del copperplate monolinea grandi dai dai se il gatto la smette di chiacchierare qua stanno procedendo con monolinea anche loro dunque io ho trovato in fondo uno stuccetto questa uniball però una punta 07 quindi adesso la provo vediamo se intanto va perché non ne sono per niente sicura sono stata molto brava scendi un po' tu opià ecco e l'ho tenuta sempre in orizzontale tu le penne queste qua le tieni in orizzontale o in verticale o come? no io le tengo in verticale veramente? perché non ho ne ho tante è l'unico modo che ho per archiviarle ok problemi di problemi di spazio si sembra che vada l'unica cosa è che ho un po' il telefono in faccia però vediamo come posso fare aspetta perché ho forse così è una punta 07 quella che stai usando? sì 07 che però ti dico non sembra neanche 07 sembra più sottile sì infatti però il tappo dice 07 con i quadretti da 05 mi sembra che vada bene l'unica cosa che non mi piace lo vedi che dopo un po' che la uso in un certo modo l'inchiostro si accumula dall'altra parte della rotellina e fa la bolla di inchiostro quando la giro quindi devo pulirla spessa è una cosa un po' antipatica vabbè però facciamo giusto un pochino di probabilmente se la usassi più dritta forse eviterai questa cosa però poi diventa scomodissima come presa almeno per me chi è che scrive con noi questa sera ho intravisto ho intravisto Melissa che tra l'altro è stata lei anche a suggerirmi queste penne e quindi lei sicuramente scriverà con noi c'è la Elena Canali ciao ciao Elena sì eccola qua Melissa la sto vedendo adesso dice giuro che domani la provo per bene oh mia stasera sembra ubriaca ragazzi ho visto il tuo i tuoi foglietti con l'evoluzione della scrittura eh sì 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 ho provato belli io non so perché ma vado sempre ci pensavo cioè lo vedevo anche stasera mentre facevo un minimo di riscaldamento praticamente niente di che ma cerco sempre un minimo di inclinazione io parto proprio col foglio girato non so se è abitudine se invece tengo il foglio così dritto ho proprio la classica postura e anche posizione del foglio dritto allora in questo caso mi viene da scrivere dritto verticale ma per abitudine io il foglio ce l'ho sempre inclinato un pochino inclinato sì se proprio abitudine bene stasera ci siamo anche preparate un pochino sì ci siamo abbiamo un minimo di scaletta invece di andare brutalmente a braccio a sentimento come dico io sì esatto che ogni tanto ci sta lasciare fluire un po' i pensieri però stasera però effettivamente dovremmo usare queste mezz'ore di chiacchiere monolinea come le ho chiamate che che siano anche una cosa per noi no? cioè deve essere anche un modo un metodo di studio di pratica di non so come chiamarla quindi è un bene aspettate che allontano un pochino se no salvate mi raccomando salvate sì stasera salvo sul mio profilo stasera esatto se non combino un pasticcio ma incrociamo le dita non dovrebbe ma questa qui è la Sli C04 che secondo me ha più o meno la stessa punta infatti c'è poca differenza a volte dipende anche dalla consistenza dell'inchiostro ok ok allora vogliamo cominciare a dire qualcosa su queste N queste U questi triangolini esatto abbiamo iniziato tutti e due facendo degli archi degli archi di riscaldamento sì che è una cosa super importante no? nell'italico e anche se facciamo lo scheletro monolinea rimane è la stessa cosa ed è una tra l'altro delle forme le N e le U si basano proprio su una delle forme radicali dell'italico che è questa che è questa sorta di o triangolo chiamiamolo così un triangolo arrotondato sì non lo so io non penso mai allo spazio bianco quando faccio cioè ci penso ma è un pensiero secondario invece quando faccio questo arco soprattutto l'arco superiore ovviamente penso sempre a questa cosa qua adesso te la faccio vedere aspetta che sono fuori dalla camera penso a questa cosa qua aspetta l'ho fatta male mi deve dare l'impressione che esca come un rametto è vero è vero perché ti dà quell'idea di continuità continuità cioè di un allora di un ramo che nasce dal tronco è vero sì che trova però continuità fino alla base ed è proprio bello morbido non troppo basso non troppo alto diciamo che di solito se non ci penso giro appena sopra la metà ah sì anch'io infatti ti stavo per dire di solito viene spontaneo abbandonare l'asta principale più o meno a metà anche perché a metà è la come dire è la giusta posizione di apertura che permette poi di disegnare un arco della giusta dimensione ma non è solo quella la difficoltà è che poi quando tu giri la forma per fare la U il tratto sotto deve produrre lo stesso spazio vuoto lo stesso spazio negativo è quello è il fatto è quello è il fatto e questo è anche quello del girare il foglio per riconoscere nella N una U e nella U una N è la famosa prova del 9 che ci dice che i tratti che abbiamo che stiamo assimilando la forma radicale e se tu invece volutamente tieni questo questo secondo tratto lo fai partire da più lontano cioè da più in basso ti cambia completamente la scrittura cioè se non ritracci un pezzettino di asta dritta ma esce subito sì e vai ti cambia completamente a me la cosa che piace molto dell'italico è che poi queste forme qua le ritrovi anche nelle altre lettere cioè se io penso per dire alla A o alla B faccio la N in un certo modo poi vado a fare una B e faccio proprio lo stesso tipo di apertura esatto se faccio la A lascio lo stesso tipo di di spazio negativo esatto quindi quel triangolino lì è super importante la Elena Silvestri mi odierà che tra l'altro ha fatto una domanda adesso te la faccio perché la sto leggendo perché lei con i triangolini non è che sono lei e i triangolini non sono propri amici però adesso te la leggo dunque la Elena dice quando vi esercitate preferite fare pagine di lettere o preferite le frasi o fate entrambe c'è anche Patrizia ridi ridi giovedì a lezione ti voglio vedere scusa Marta no tranquilla io quando quando mi esercito non faccio mai la paginetta di lettera singola a ripetizione lo facevi però prima dai sì però più che la singola lettera magari allora le lettere che hanno gli stessi segni sì a gruppi di lettere a gruppi di lettere sì quello sì poi dopo dopo un po' preferisci applicare lo studio sulla parola sulla frase e la M la M è una doppia N che ha sostanzialmente il doppio arco allora tornando ai triangolini gli spazi negativi no che si lasciano una cosa magari anche divertente e allo stesso tempo utile per lo meno per me è stato sulla pagina di esercizio andare a colorare con un pastello gli spazi bianchi che vengono lasciati dallo scritto e una volta colorati è subito visibile dove stiamo sbagliando perché il colore l'area colorata il mio occhio la percepisce subito più o meno grande rispetto a quella a fianco o all'interno di un gruppo e quindi mi fa mi aiuta a vedere l'errore che sto facendo ad esempio i triangolini in alto a sinistra dell'arco questa cosa qua va fatta con le lettere un po' grandi senti si vede poco l'area sotto l'arco ti fa un po' anche prendere una pausa questo lavoro dalla scrittura e ti induce a ragionare su si ti sforzi di più certo è scritto che è una sorta di autoanalisi di autocorrezione c'è qualcuno che non conosco che chiede posso chiedervi le legature tra le lettere come dovrebbero essere? le legature tra le lettere secondo me la risposta giusta è che ce ne sono tante in che senso stavo dicendo lei vorrebbe vedere le lettere legate dipende dipende che monolinea stai facendo provo a legare la parola meno in arancione non si vede sì secondo me dipende dipende che cosa vuoi che cosa vuoi esercitare no? noi questa sera volevamo esercitare un pochino la regolarità in questa uscita della M della N l'arco alto l'arco basso sono un modo quindi non le stiamo particolarmente legando però possiamo anche fare un pochino di pratica legandole nel senso possiamo scrivere un po' legato la legatura nel momento in cui tu introduci la legatura vai a dare un po' di morbidezza a tutto il tratto perché vai ad introdurre una curva ovviamente nel punto di e nel punto in cui la lettera va verso la base o comunque nel tratto di uscita della lettera per legarsi all'altra vediamo se aspetta e prova a trucco a girare un po' il telefono vediamo se gliela faccio senza forse così si vede meglio dunque Marta ha trovato una filastrochetta bellissima che io mi sono scritta velocissima anche perché cara Marta sono già le 9.20 qua ecco allora andiamo subito a quagliamo sulla a scrivere la nostra filastrochetta c'è Enrico fres c'è Enrico il nostro chimico di fiducia ma l'ho visto al mare oggi ma giuro giusto sì però lui abita e lavora ok è avvantaggiato andiamo di filastrocca che cosa dici sì così facciamo tutti queste all'interno di questa filastrocca che non è stata scelta a caso fammi prendere la mia voglio nuovo vediamo se riesco senza errori perché non è primo giorno di mare 2020 hanno di fuoco infatti l'ho visto oggi dunque proviamo senza legature o con le legature come vuoi facciamo anche con le legature senza va bene a me non dispiace a me senza legatura piace tantissimo è divertente sì quando hai finito di scrivere fa un blocco di testo con una texture secondo me molto interessante e poi mi piace l'idea che si possa fare con una marea di strumenti diversi tipo pastelli queste cose qua quindi tu alla fine dipende che misura usi di lettere ma gli puoi dare anche delle ombreggiature insomma parecchi effetti molto interessanti che poi in settimana stavo guardando anche io un po' il materiale che ho e pensavo a questa cosa quanti di noi hanno in casa i brush pen quelli con la doppia punta magari qualcuno l'abbiamo però poveretti sono sempre trascurati questa punta è sempre trascurata la loro perché tanti vanno solo subito sulla sulla punta brush e quindi anche questo è un buon strumento per per far pratica che abbiamo in casa io non amo ascendenti e discendenti molto lunghi li faccio sempre molto compatti sì anche perché mi piace l'interlinea piccola e questo monolinea spezzato non so staccato non so come vogliamo chiamarlo è ottimo anche per esercitare la spaziatura tra le lettere va fatta secondo me tanta tanta attenzione in più perché qui se toppi qualcosa lo vedi subito mentre nell'italico legato più corsivo insomma tutto sommato lo recuperi è vero perché c'è la legatura che ti tiene insieme le lettere quindi ti dà quel ritmo non lo sto guardando Cristina preoccupati sta scrivendo sta nascendo un nuovo amore puntini puntini sono preoccupata attenzione mio fratello che dice guardandovi si capisce quanto sia nemico la fretta della scrittura è vero bravo fratello di Marta che bella cosa sì sì è vero guarda io sono un po' tornata indietro con il corso che ho appena finito con Eter perché avevo studiato un pochino Italian End da sola in passato ma senza entrare tantissimo in dettaglio invece quest'anno mi sono pappata visto che c'erano due corsi di Italian End il primo l'ho fatto proprio quando eravamo in super lockdown con un'associazione calligrafica di Parigi molto molto bello veramente bello sul e l'altro con Eter e nonostante abbia fatto questi due corsi ma siccome non l'ho praticato in questi mesi perché ho fatto altro mi sto trovando nella situazione dei principianti di quando avevo proprio iniziato a scrivere e quando mi sono messa la settimana scorsa in questi giorni mi sono messa a studiarlo avrei voluto mi sono accorta che prendevo in mano la penna e avrei voluto scrivere subito cioè volevo saper scrivere subito e mi sono ricordata di quanta fatica ho fatto all'inizio a rallentare a darmi il tempo di imparare tutte queste cose lo sto rivivendo adesso con questo stile bellissimo come si chiama questa scrittura Carmela è un italico monolinea ok ti aveva già risposto Elena brava Elena e tra l'altro poi questo stile qua lo puoi fare anche con la penna di vetro no direi che potremmo utilizzarlo anche la prossima volta sfondi una porta aperta sì la prossima facciamola con la penna di vetro vai creeremo la dipendenza Carmela Capriati vorrebbe imparare allora ti prepari con un foglio a quadretti e una penna e scrivi con noi esatto tanto vedi che non c'è bisogno di materiale elaborato no ecco io ho fatto un errore ho messo una O al posto della E vabbè tuo fratello ha le zampe di gallina mio fratello sta studiando all'accademia disegno bravo bravo li possiamo dare un nome al fratello Stefano ok quindi Stefano benvenuto adesso noi scriviamo poi ci facciamo anche l'autocritica guardiamo i nostri triangolini questa cosa di non produrre chilometri e chilometri di carta scritta eccetera è importantissima secondo me mezza pagina scritta come si deve con criterio esatto col tempo che ci esatto col tempo che serve e poi lo stesso tempo dedicato ad analizzare e anche l'autocritica non è un esercizio facile perché io sono passata da oddio non so fare niente a ah però non è per niente male in una settimana adesso sto guardando che io ho finito prima ma ho finito prima perché ho saltato una riga la metto sotto è un'esercizio è un'esercizio allora però la domanda di Carmela intanto che tu finisci di scrivere volevo dire questa cosa qua tutti hanno bisogno di un esemplare no per iniziare a fare questi questi alfabeti proprio per iniziare a scrivere così noi ci siamo un po' basate sullo scheletro di Paul Shaw che è un artista di lettering esperto di caratteri tipografici eccetera e calligrafo e sul suo sito c'è questo pdf gratis gratuito che che uno può scaricarsi e c'è anche una pagina ce l'hai stampato Marta così dammi un secondo che lo recupero che io non ce l'ho aspetta un secondino eccolo qua così vedono più o meno di cosa stiamo parlando si vede si adesso arriva dagli un minuto perché eccolo qua è proprio lo scheletro dello stile italico sì è molto semplice semplicissimo si riconoscono le forme dell'italico gli archi che abbiamo visto che abbiamo visto adesso sono proprio quelli che rivediamo anche qui è una buona è una buona base per iniziare a fare un un italico monolinea non legato però che abbiamo visto è altrettanto divertente è facile da scrivere insomma questo questo è dritto questo sembra verticale sembra quasi verticale sì lui lo fa verticale lui lo fa verticale gli hanno detto che la tendenza per chi scrive un po' in corsivo è quella di inclinare leggermente verso destra sì però ecco sostanzialmente la forma non cambia un attimo sta cosa oddio mi si è impallato il telefono credo vabbè uguale vediamo se riesco a rimetterlo giù dopo magari nelle storie domani mattina adesso io non credo di farcela ma insomma domani possiamo mettere il link al pdf sì così chi vuole se lo va se lo va a prendere magari domani dopo che tu avrai salvato il video perché devi salvare il video sì sì assolutamente nella descrizione del video su IGTV puoi andare a fare la modifica e e ci inserisci il link poi io te lo mando te lo mando con whatsapp o qualcosa sì sì sono cose carine dai da sì proviamo a farlo legato no proviamo a fare un paio di un paio di righe legate sì dai voglio vedere però dunque se avete visto quello che abbiamo messo nelle stories che più o meno sono le stesse cose io ho fatto quattro step di ci sono io ho tre però tu esatto tu tre e non sono molto dissimili insomma però andiamo io direi o o questo o questo adesso non mi vedo neanche se è inquadrata sì questo è un pochino più legato c'è un pochino più corsivo facciamo quello sì l'ultimo dai mi piace mi piace tanto vedere che gli italiani hanno dato il via sono stati ispiratori anche di cose così belle come il corsivo monolinea che sta andando tanto di moda adesso alla fine deriva da noi italiani è nostro esatto poi in quello che faccio io mantengo non so se tu però io mantengo un pochino di caratteri tipo la N la M con l'asta esatto l'entrata sì io ma dipende insomma dipende come mi viene un pochino la M Grazie. Stiamo andando un pochino più veloce? Sì, un pochino più veloce, ma non tantissimo. Però ecco, un pochino più veloce sì. Sì, guarda qui c'è Paul, hi. Hi Paul, hi. Tricky words to write, yes. The goal here was to practice a little bit of the beautiful stem of the N in italics. And practice consistency and spacing between letters in monoline. Yes. Ah, Enrico. Bene, adesso sono 40 minuti che stiamo chiacchierando, quindi direi che… Sì, direi che possiamo finire qua. Possiamo salutare, salvare? Sì, salviamo tutto. Fateci sapere cosa preferite, se la versione senza legatura, con la legatura o entrambe. E poi magari la prossima settimana proviamo a fare qualche altra lettera. Cosa dici? Sì. Allora, io credo di aver impallato veramente il telefono, quindi non riesco più a passare la telecamera di là. Ok. Perché non mi toglie… Ah no, ecco, l'ha fatto, l'ha fatto. Ok. Quindi se ci vogliamo salutare… Sì. Di persona. Sì. Possiamo… Tricco. Ok. Girare. Tadà! Eccoci qua. Allora, con la promessa di lasciare il link per il PDF domani nel video. Sì, però stasera Marta salva il video, giusto Marta? Salvo. Ma che ansia che mi state facendo venire. Quindi se lo volete rivedere dopo… Sul mio profilo sulle Instagram TV. Esatto. Esatto. Trovate lì. A parte di prossimo. Facciamo di nuovo. Facciamo cambio, parte io. Sì, facciamo una volta per uno, così… Sì. Sì, ci posizioniamo una volta per uno e altro in basso. Bene. Ok. Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie mille, buona serata. Un beso. A settimana prossima. Sì. Fate delle belle lettere. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.